Qui sul discorso ambientale concordo sul fatto che è probabilmente la parte più preoccupante, quella che meriterete di attenzione rispetto al suo organo tradizionale, perché quello che vale per il barrio di palma vale per tanti altri ingredienti che incidono sulla qualità dell'animento. Discorso ambientale, la palma come ha detto prima Stefania l'origina dall'Africa, poi in alcuni paesi è stata esportata e lì ha preso il sopro aperto, e da lì è nato un problema, un forte problema, perché vedete i maggiori produttori sono diventati negli ultimi anni, indonesia e marezia, maggiore produttori significa che insieme producono circa l'85% del totale dell'olio della palma, quindi vedete che il loro ruolo è fondamentale, e quando si parla di questioni ambientali penso ci si debba concentrare proprio su queste aree. il problema è dovuto al fatto alla grande richiesta delle aziende in ultimi periodi, grande richiesta che ha portato a una deforestazione fuori controllo, niente più programmazione, giochi politici dietro, soprattutto giochi economici, capotezza in molte industrie multinazionali, ha fatto sì che appunto si potesse dar via questa deforestazione senza regole, e i primi che ne hanno subito gli effetti negativi sono stati le popolazioni animali, ma anche popolazioni indigene, il simbolo della devastazione è l'orango, non so se avete visto immagini, il proprio animale simbolo di questo scecchio, che viene proprio scacciato da queste moleste perché abbattute e destinato alla morte. Quindi il primo problema forte è il tenere sotto controllo, quindi la coltivazione e limitare queste evoluzioni intensive. C'è da dire che la coltura da palma rispetto alle altre coltivazioni d'olio è quella che ha maggior resa, fino a otto volte di più, e l'accennavo prima una stefaglia, soprattutto rispetto al girasole e soglie della colza. Inoltre diciamo che di positivo rispetto alle altre coltivazioni è una coltivazione che richiede meno acqua e anche meno fertilizzanti, quindi entro certi numeri e con certe modalità potrebbe essere più sostenibile rispetto ad altri tipi di coltivazione. Uso anche il condizionato, ok? E' da un'obbligazione. E vedete poi che a livello mondiale, se guardiamo tutte le varie piantagioni per la produzione di olio vegetale, quella che viene coltivata di più è la soglia, quella che occupa più suolo, diciamo circa il 60%. Segui la colza, il girasole e la palma, vedete, all'ultimo posto un 7%. Una cosa, anche leggendo questi dati quando ho avuto la presentazione, mi sono chiesto, adesso c'è molto scampore sulla palma d'olio giustamente, sulla deforestazione, ma nei vari paesi in cui ci sono coltivazioni intensive di soia, pozza e anche girasole, sicuramente sono stati effettuati gli stessi procedimenti, cioè c'è stato un risposcamento così intensivo, ma non se ne è parlato praticamente mai, consentendo l'arricchimento di chi aveva interesse ad arricchirsi e provocando danni alle popolazioni, all'ambiente e all'ambiente. Ora invece sulla palma d'olio c'è quanto scampore, non giustifica l'attività e la deforestazione, però pone un punto interrogativo, non so perché c'è così tanto rumore, forse per altri interessi, qui nella mia ipotesi che non hanno nulla di documentato, però magari dalla parte delle altre coltivazioni, delle altre industrie. E a questo punto ci possiamo chiedere, ok eliminiamo l'olio della palma, quindi cerchiamo di portare e evitare che venga utilizzato nell'industria alimentare. Cosa succederebbe? Se dovessimo eliminare l'olio di palma aumenterebbe sicuramente l'altro coltore per cui si ha quella quantità di olio è importante in questo tipo di situazione attuale in cui l'attività delle industrie alimentari è molto forte, la produzione è molto alta. Quindi aumenterebbe le altre colture che però sarebbero meno produttive, quindi per soddisfare il 7% di palma d'olio, moltiplicate per 8, dovremmo avere, perché sono 8 volte meno produttive, dovremmo avere un 56% di territorio da sfruttare per poter produrre quella stessa città. Quindi penso che, così obiettivamente, senza dare opinione, sarebbero i cittadini attuali di attività industriale, produzioni cibi industriali, consumi cibi industriali, sarebbero sostenite. E questo è un po' scherzo, quando il WWF, quindi un ente che ha dentro il cuore la salute dell'ambiente, vedete a centro c'è l'omino, c'è scritto se boicotto l'olio di palma. Andiamo a destra e vediamo, prima ipotesi, boicottiamo tutti i prodotti contenenti olio di palma. Cosa succede? Le compagnie comportano degli oli alternativi all'olio di palma. Come vi ho detto prima, questi oli richiedono, fino a 9 volte di più, una quantità di terreno rispetto all'olio di palma, che comporterebbe un aumento della deforestazione rispetto all'olio di palma, e un aumento anche della perdita di specie degli animali, e il disagio per le popolazioni umane. Dall'altra parte, un'altra ipotesi che si può verificare è che le compagnie e le varie industrie alimentari non comprano più l'olio di palma dai paesi attualmente produttori. Questi paesi produttori, non avendo più il mercato, avrebbero anche meno incentivi che attualmente ci sono per produrre un olio sostenibile. Non avendo più questi incentivi, loro cercano altri acquirenti a cui vendere quest'olio, che sicuramente saranno acquirenti che hanno o meno ancora il scorso di sostenibilità, quindi si rischerebbe di incentivare ancora di più un mercato che va contro la sostenibilità ambientale. Queste sono delle ipotesi che dovrebbero far pensare su quale potrebbe essere la strada. Inoltre, un altro aspetto secondo me da tener conto è l'aspetto sociale, economico, socio-economico, ovvero prendiamo l'indonesia, uno dei maggiori produttori. Vedete che per un contadino indonesiano, dal punto di vista economico, la coltivazione da panna gli rende circa 2.000 euro per ettaro, mentre la coltivazione da riso gli rende circa 200 euro per ettaro. Inoltre ci sono milioni di persone che vivono direttamente grazie a la cultura dell'olio di panna. Io non cerco di promuovere la coltura, cioè l'utilizzo da panna e la coltura, però cerco di far capire che la soluzione, secondo me, ma come essendo avanti dovremo, non sta nel coinvoltare ma nel cambiare l'atteggiamento, nel farsi una coltura, come diceva Stefania, diventare consumatori consapevoli, il che poi può stimolare la produzione di prodotti che possano essere più sostenibili. E diciamo che certe situazioni ci fanno sperare che ci si stia indirizzando verso la buona strada. Perché? Perché, ad esempio, negli anni circa 10 anni fa è nato il vestente, che negli ultimi anni è diventato un pochino più incisivo, che è l'RSBO, ovvero la tavola rotonda nell'olio di panna sostenibile. Questa organizzazione cosa fa? Praticamente promuove le pratiche sostenibili per la coltivazione dell'olio di panna, quindi promuove, certifica e fa distribuire quell'olio di panna che viene coltivato secondo certi criteri, criteri che cerchino di rispettare appunto l'ambiente e quindi che limiti molto la deforestazione. Però qualcuno ha sollevato dei dubbi sull'efficacia e sull'onestà, diciamo, di questo RSBO, soprattutto Greenpeace e altre associazioni. Vi spiego perché. Perché? Perché in questa tavola rotonda sono presenti sia organizzazioni come WWF, che ha quale decennato non viene, dell'ONG, organizzazioni non governative ambientali, però sono presenti anche commercianti e produttori. Quindi questo mi fa dubitare, dubitare, su magari un possibile conflitto di interessi e una trasparenza non totale. che sta nascendo altre realtà che penso siano anche migliori dell'RSBO. Una che comincia ad avere una certa importanza è questa POIG, questo gruppo di innovazione dell'olio di panna, sostenuta anche da associazioni come Greenpeace, è nata sulla scia dell'RSBO. In più, di positivo, ha stabilito un sistema di certificazioni che è più rigoroso, quindi mette dei paletti più rigidi. E uno dei paletti più importanti è che, mentre per l'RSBO è previsto un certo quantità di deforestazione, secondo i loro criteri la deforestazione deve essere nulla, zero, quindi si deve andare a coltivare quelle aree che sono dismesse, che non sono utilizzate, quindi ci sono magari altre coltivazioni, sostituire delle altre coltivazioni da olio, ma evitare al 100% la deforestazione. Quindi, diciamo che negli ultimi anni si stanno sensibilizzando molto le popolazioni, anche le società produttrici, perché hanno visto che comunque si è suscitato molto scalpore e i consumatori tendono a comprare con meno facilità dei prodotti contenenti di palma. Questo fatto sia appunto che siano nati degli anni così importanti e ci sono anche altre realtà che puoi seguire, vi dirà Stefania, molto interessanti. L'ultima cosa sulla questione ambientale, che è giusto per dare un panorama dell'associazione italiana, diciamo che siamo rispetto ad altri paesi un pochino più virtuoso per quanto riguarda l'olio di palma e vi parlo di produzione italiana, perché dal punto di vista alimentare un 50% dell'olio di palma che viene importato in Italia viene utilizzato per questo scopo, tutto il resto viene utilizzato per altri destini, come diceva Stefania, combustibile al primo posto, industria cosmetica e quant'altro. Questa è la coerenza allo 0,3% mondiale, quindi diciamo che come consumatori italiani che consumano prodotti italiani abbiamo un peso minore rispetto ad altre realtà. Inoltre, secondo l'associazione dei pasticceri industriali, di questo 11% circa il 50% viene da dell'olio pallorizzato, è certificato, il che insomma ci dà un pochino, quindi ci asserire un po' di più, ci fa stare un po' di più tranquilli, anche per quanto riguarda il discorso ambientale, esattamente. Quindi, questo è stato un precursor, diciamo, della nutrizionistica, l'aspetto ovviamente nutrizionale, però il ruolo della nutrizionista è anche quello di rispettare sia la persona, sia se stessi, gli altri e anche l'ambiente, scegliere con attenzione tutti i vari prodotti di cui ci offriamo, perché la qualità è importante, non solo per la salute nostra ma anche per l'ambiente, per questo abbiamo voluto affrontare anche con umiltà e cercando di dare un'informazione il più oggettiva possibile l'aspetto ambientale. La mia parte è finita, adesso li lascio a Stefania per la parte finale. Io volevo parlare un po' di quello che sono progetti eco-solidari e che mi aspettano più diversità, per quanto riguarda l'olio di palma. Una signora del calma. Poi invece ho un'immagine di come si produce l'olio di palma in Abissau. Sono due paesi africani, a cui io ho notato il mondo, l'olio di palma in Abissau, sì. Allora, altro mercato che sicuramente ha messo in piedi il progetto che si chiama Serenio di Palma in Gatto proprio a Bastogna, in cui viene prodotto olio di palma sostenibile e biologico. In questo progetto sono stati coinvolti circa 650 milioni che vivono l'olio. non è che c'era l'olio di palma che aveva messo la palma, ma c'era la palma. E sono divisi in quattro associazioni e loro si trovano fatte le riunioni, le donne sono coinvolte in questo progetto perché le donne sono molto importanti. svolgono tutto l'olio del micro-credit quando ho pintato le donne, perché sono loro che portano avanti l'economia del paese, molto più di loro. Sono più attivati. E con i terreni si utilizzano? Si utilizzano i terreni qui le palme che escono spontaneamente e i terreni vengono incentivati e differenziati. Cioè, modo di non fare colture immessi. Si utilizza il concino organico che deriva dal compostaggio e quindi aumenta la produttività e amichisce il suo. Questo progetto produce una certificazione della produttività controllata e per il fornato, ci sono quelle che hanno un trattolo in cui viene lavorato l'olio e viene molto bene fatto a mano, le partagioni sono piccole e prevede un intenso programma di formazione per i terreni. Quindi è un progetto sostenibile. Altro Mercato utilizza in parte questo olio. Chiaramente per problemi tecnici, se voi andate sul sito di Altro Mercato, trovate comunque anche gli aggiornamenti su quello che stanno facendo nei loro prodotti nei confronti dei prodotti di pane. I sostituti del pane li hanno fatti senza olio di pane. Gli altri prodotti che sono senza olio di pane di Altro Mercato sono i biscotti e alcuni prodotti dell'economia carceraria che è un altro progetto che lo costano un anno. in questo momento c'è solo un prodotto che sono delle crostatine che utilizza solo questo olio di palma, serene di palma, ma i problemi sono di forma, perché questo olio è più grezzo, non è così raffinato e più frazionato come quello utilizzato per questa pasticcera di un certo tipo. Io non sono un pasticcerino, non so bene come si lavora. e nella crema sbarmabile che lo hanno, parte dell'olio di palma che c'è è sostituito da quello olio di palma il resto dell'olio di palma che lo utilizzano proviene dal circuito e resta di produttori sostenibili. Quindi si stanno promuovendo. In ogni caso non utilizzano olio di palma non certificato. però per motivi tecnici industriali, anche nei prodotti di alto mercato, anche biologici, c'è comunque una corda di olio di palma. La provincia è un'altra tinta che fa biologico, come tutta tedesca, è abbastanza grossa, qui è grossissima, molto attenta ai termini ambientali. E' un esempio, non sono tante, eh. Però, alto mercato, non se ne manca la ditta. Io ho fatto delle ricerche, di questo ho provato. Probabilmente non sono riuscita a trovare tutto quello che c'è. Però lo stanno facendo comunque. Già dal 92 usavano un olio di palma biologico proveniente dalla Colombia. Gli ho scritto la ditta da un olio di palma, che è un grosso che fa quello olio di palma biologico. E adesso però stanno portando avanti questi progetti, quello sarebbe palma. Quindi, alto mercato da olio di palma biologico proveniente da Smeraldas in palma biologico proveniente da Smeraldas in palma biologico proveniente. In palma biologico proveniente da Smeraldas in palma biologico proveniente da Smeraldas in palma biologico proveniente da Smeraldas. In palma biologico proveniente da Smeraldas in palma biologico proveniente da Smeraldas in palma biologico proveniente da Smeraldas. In palma biologico proveniente da Smeraldas in palma biologico proveniente da Smeraldas in palma biologico proveniente da Smeraldas. nato barely ecologico proveniente da Smeraldas in palma biologico proveniente da Smeraldas in palma biologico proveniente di pabanzioni di palma biologico proveniente da Smeraldas che ha dos kro also known for himself. 들se da Smeraldas in palma biologico proveniente da Smeraldas in palma di Pabanzino應該 sad değild heavilyоновicamente dan palliative catalogando piangere olio nación. Per loSI proveniente da Smeraldas in palma biologico proveniente da Smeraldas in palma biologico proveniente proveniente 100% dal commercio eco-solidale ed è questa la via che tutte le aziende che fanno biologico dovrebbero perseguire, cioè premesso che nell'industria alimentare sembra sia molto difficile la sostituzione col d'acqua dell'olio con altri due, sia per motivi proprio di lavorazione, sia per motivi come abbiamo visto come io, anche in uso del territorio l'industria c'è, attualmente c'è, noi abbiamo delle grosse possibilità di cambiare questo stato almeno quello che viene utilizzato che sia sostenibile e in questo caso lo si stanno muovendo in questo senso quindi senza disboscamento, integrazione delle strutture presenti a quello totale rispetto ai diritti territoriali e quindi questa è la via che le aziende o qualunque entità come il commercio eco, così, dovrebbero perseguire che stanno già perseguendo, perché l'audio mercato, il commercio eco-solidale, l'audio biologico, stanno perseguendo e forse è al momento l'unica via presente, a mio punto, perché non vedo in questo momento delle armi sostituire dove si può e scelgere dove non si può noi come consumatore lo siamo a decidere quando, come, se, premere vado a chiudere, in bellezza, ci sono qualcosa di distensivo vi voglio parlare della Binari Samua la Binari Samua è un piccolo stato che sta sotto il Senna uno stato poverissimo per i più poveri del mondo che però ha una bella, ha delle risaie, ha un sistema di lighe per le risaie, con sale, con saline poi dicono olio della palma, olio di palma, separata e la tipologia che sarà una tipologia dura e perfetta in maniera con la vita della terra, della foresta e della cultura bucana lì, di natura, hanno le foreste della palma si ubriano anche l'olio di palma, che è un'olio di qualità di palma quindi proprio lo usano i quotidiani anche loro per avvicinare questo olio di palma e gli piace questo olio di palma è Presidio School Food dal 2011 cioè una cooperativa di contadini del nord del paese ha portato avanti questa richiesta ed è diventato il Presidio School Food quindi è tutelato il Creolo, che è una lingua maggiormente parlata io vi ne avvisavo soprattutto la lingua di palma, le linguaggi locali ma il Creolo era una lingua il Creolo portoghese, perché erano ancora note portoghese lo chiamano siti io non so pronunciare però se non lo leggo così come si chiama non lo leggo così come la raccolta la fanno lunga la trasformazione la fanno lunga è una trasformazione lunga, rivolosa l'olio raccolto, schiacciato poi filtrato, poi bollito poi separato, poi esoglito insomma, viene fuori con quella cosa quella roba rossa è un olio denso, aranciato profumo di pomodoro, frutta e spezie per loro è una fonte di antiossidanti e di vitamine che magari non avrebbero determinati non è che mangiare la carne come lo mangiamo noi non è che mangiare il formaggio come lo mangiamo noi cioè la quantità di grassi e saturi che ti dà ora con il patto è relativa in più cammino in tanti 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 ed è proprio un componente questa è una specie di zuppa di pesce l'oro, una zuppa di gambe usano molti gambe e lo utilizzano nella cucina se voi guardate le occhiette che si trovano con difficoltà che si trovano c'è sempre come condimento l'olio e come stanno? i livelli cardiolustrali? non è quello il loro problema ripeto loro camminano non mangiano non mangiano cibi industriali come quelli che vivono nelle campagne non è che l'olio di palma che mangiano non gli dà il problema di carne nella scuola perché entra nella loro quota di grassi e sapori è che noi ne abbiamo una montagna e quella dà una grossa differenza quindi quest'olio che lavorano è completamente diverso da quello che noi troviamo che invece è una schifezza che è quello primo lì del deodorato, del sugliacato che è quel cubetto lì invece è così e questo olio per carattere affinato e frazionato sta mostrando perfettivamente le rischie ambientali da bellezza ma è quello bene grazie